Cosa succede quando Wonder Woman imita Kendall Jenner Essere Wonder Woman è una grande responsabilità, per interpretarla al meglio, bisogna saper capire tutte le tipologie di donne esistenti. Ecco perché Gal Gadot è così favolosa, soprattutto mentre interpreta Kendall Jenner in uno sketch parodia al Saturda in IGT Live. Gal Gadot imita Kendall Jenner, linizio della fine?. Lo sketch ha luogo nel corso di un immaginario reality chiamato Kenda is a Mother House. La scena è interamente focalizzata sulla discussione tra Gal Gadot, nei panni di Kendall, e le sorelle modelle Gigi e Bella Hadid. Il punto della questione, una ciotola di frutta. Nella scena, Gal Gadot ha un'aria affranta e frustrata, e imitando tutte le moine da al passo con i Kardashian. E life of Kylie, la ragazza esclama, devastata, sono così sotto pressione. Oh, aspetta un momento. Quale, sorella, sono io? Gal Gadot si guarda allo specchio cercando di ricondurre la propria immagine ad una specifica Kardashian, e probabilmente la più somigliante è proprio Kendall. Nel frattempo, la voce fuori campo proclama un dictat irriverentissimo, spegni il cervello con la nostra nuova programmazione autunnale, facendo leva sul fatto che questo genere di reality non punta a istruire, ma solo a divertire. Un altro degli spin-off celebra tutti quei momenti in cui Kanye West si rifiuta di farsi riprendere e si rifugia qua e là per casa mentre Kim fa la regina di ogni cosa. Un grande classico, chi non lo ha mai visto nello show con una faccia da mamma, posso andare fuori a giocare, adesso? Stampata addosso probabilmente non ha mai guardato al passo con i Kardashian. Il nuovo Justice League sta arrivando. I fan se ne stanno inquieta e trepida attesa per larrivo del nuovo film della Justice League. Attesissimo e apprezzatissimo dai fan, il sequel metterà sullo stesso schermo gli eroi di C più amanti di sempre e alcuni degli attori più acclamati, Batman, Ben Affleck, Wonder Woman, Gal Gadot, Flash, Ezra Miller, Aquaman, Jason Momoa, sempre sia lodato, Keyborg, Ray Fisher, e un cast di supporto di tutto rispetto. Mentre la trama di questo nuovo popcorn movie viene cautamente tenuta in segreto, arriva il primo trailer e siamo tutti col fiato sospeso. Dopo il successo il Batman vs Superman, il nuovo film comincia con una Lois Lane in lutto che sogna di fidanzarsi con Clark Kent. Quando si sveglia, però, la realtà è ben diversa e il suo letto è vuoto. Nel frattempo, il notiziario in pieno stile Foresa Doving annuncia la caduta della società così come l'abbiamo sempre vista per colpa di guerre e terrorismo. E poi arrivano le epiche battaglie dei protagonisti, che combatteranno per cambiare le sorti di tutti e, come sempre, ci faranno emozionare con le loro vicende. L'arrivo del nuovo film della Justice League, diretto da Zack Snyder e Joe Svedon, è previsto per novembre. .